Bene, buonasera a tutti, ben ritrovati, perché ormai sta diventando un luogo di confronto e di approfondimento, ma soprattutto di condivisione. E stasera la FIDE ripropone un webinar sugli aspetti normativi che sono venuti a delinearsi man mano che l'emergenza Covid-19 andava sempre più dilagando. Adesso siamo arrivati, speriamo, a una fase più tranquilla, però per gli aspetti normativi e gli aspetti che ci interessano come scuole, come realtà, abbiamo bisogno effettivamente di approfondire. Oggi con noi ritroviamo molto volentieri il ragioniere Angelo Agostinis, il ragioniere Ettore Ferraro, l'avvocato Emanuele Montemarano. Anche oggi andremo ad approfondire aspetti fiscali, lavoristici e legali, però questa volta avendo come scenario il decreto rilancio, il numero 34, che in questi giorni sta in seguito anche degli emendamenti e in discussione alla Camera. Però intanto abbiamo già degli elementi utili per le nostre riflessioni, ma soprattutto per l'applicazione che dovremo dare nelle nostre realtà. Io non voglio togliere molto tempo, oltre a salutare tutti voi per la presenza, per la partecipazione, ricordo che è possibile nella sezione domande porre dei quesiti. E questa volta cercheremo di dare risposte all'interno di questo incontro, dove è possibile, altrimenti poi troveremo altre modalità comunque per farvi arrivare risposte a quei siti posti. Come si svolgerà l'incontro di oggi? Innanzitutto ci sarà un intervento a due voci sugli aspetti lavoristici e legali, con Emanuele Montemarano e Ettore Ferraro. Poi dopo ci sarà un intervento di Angelo Agostinis, che sempre a partire dal decreto 34 del 2020, sul decreto rilancio, ci presenterà un po' gli aspetti fiscali. Poi ritorneranno Emanuele Montemarano e Ettore Ferraro per dare delle prime risposte, poi si aggiungerà Angelo Agostinis e poi andremo a concludere. Io auguro a tutti un buon pomeriggio e buon webinar, grazie ancora a Ettore Ferraro, a Angelo Agostinis e a Emanuele Montemarano per la loro disponibilità, la loro competenza e il loro accompagnarci in un momento sicuramente non facile e non bello. E speriamo di poter all'orizzonte vedere spiragli di speranza e di inizio oppure di un nuovo inizio. Grazie a tutti e buon webinar a tutti. Ringrazio la Presidente, non solo per l'organizzazione di questo incontro, ma direi per l'attenzione instancabile che la fida del primo giorno di lockdown ha mostrato nei confronti di tutti i nostri istituti in una pagina non facile. Come vedete va di moda quando il periodo è difficile dare alle leggi dei nomi rassicuranti, ma come temo che il decreto cura non abbia curato il Paese, temo che il decreto rilancio non lo rilancerà. Però a noi interessa oggi capire alcuni nodi operativi per dare delle indicazioni in un momento di estrema confusione, ma è così in tutto il mondo perché ovviamente siamo legati a un'emergenza sanitaria di cui non conosciamo le evoluzioni. Ma questo decreto è veramente complesso perché è stato concepito un po' come il testo unico sul Covid, cercando di accorpare un po' tutta la normativa di emergenza nelle prime settimane. Vi do qualche numero per capire di cosa parliamo. È un decreto fatto di 111.000 parole con 620 rimandi ad altri testi di legge, quindi qualcosa di incomprensibile a qualunque comune mortale. Decine di migliaia di emendamenti già presentati, rinvio a 103 provvedimenti attuativi che non si sa se vedranno la luce ed è un testo formato da 1051 commi. Al che il più famoso giurista italiano e il massimo esperto di diritto amministrativo, Sabino Cassese, lo ha commentato con estrema dolcezza con questa frase. Chi lo ha scritto non conosceva né il diritto, né la logica, né il buonsenso. Questo è per confortarci, però siccome le leggi non le dobbiamo commentare, ma ovviamente spiegare operativamente, ma mi sembrava importante a chi ci ascolta dare la dimensione della complessità di questo settore. Le parole chiave sono un po' le stesse che abbiamo condiviso l'altra volta parlando del decreto cura e quindi il set degli strumenti che il legislatore ha scelto per gestire l'emergenza covid sostanzialmente si basa su quattro concetti. Poi ce ne sono altri, ma gli strumenti fondamentali sono questi quattro. Gli ammortizzatori sociali, il blocco dei licenziamenti, lo smart working e i protocolli per la sicurezza. Poi nei rivoli di questo testo così complesso troviamo milioni di argomenti su cui dovremmo soffermarci. Ma in sostanza ciò che rileva per i nostri istituti è come rispetto al decreto cura si sono evoluti questi quattro strumenti che sono quelli. Questi sono i problemi fondamentali nella gestione dell'emergenza e quindi cerchiamo in questa finestra di vederli rapidamente con una prima introduzione normativa e poi grazie a Ragionier Ferraro con indicazioni più tecniche e operative che poi sono quelle di cui avete maggiormente bisogno. Cosa cambia? Ovviamente non abbiamo il tempo di rispiegare tutto quello che ci siamo detti nel precedente webinar, quindi ragioniamo sulle differenze e poi con le domande se ci sono punti da chiedere. I connettori saranno chiariti. Ma il primo punto è che gli ammortizzatori sociali sono stati prorogati di altre nove settimane. Quindi con un meccanismo di raddoppia, mi ricordo il famoso lascio raddoppia tipico di questo decreto, la durata o il valore economico di molti emollumenti lo vedremo stato raddoppiato anche in coincidenza con il prolungarsi dell'emergenza. Ma sarebbe troppo semplice, troppo bello e forse non avremmo organizzato questo webinar se le nove settimane fossero diventate 18. In realtà ci spiegherà adesso Ettore che il meccanismo è molto più contorto perché in realtà le nove settimane iniziali non sono ora 9 più 9 ma sono 9 più 5 più 4. Il saldo è 18 ma in questo saldo ci sono degli elementi da considerare perché le nove settimane iniziali previste per il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto diventano 14 in questo stesso arco temporale ma le ultime 5 adesso riconosciute possono essere fruite solo se le 9 sono state già completate con una successiva richiesta mentre le 4 residue per arrivare al 18 e qui iniziano i dolori ma questo già probabilmente lo avete studiato questi giorni le 4 residue sono riconosciute per il periodo dal 1 settembre al 31 ottobre quindi il calcolo è presto fatto su 36 settimane dimmi Ettore se ho sbagliato perché con i numeri sei più bravo tu di me ma su 36 settimane che sono quelle che vanno dal 23 febbraio al 31 ottobre la cassa integrazione o il FIS ne copre 18 quindi la metà e come sapete quello che dà lo Stato non è certamente il 100% della retribuzione quindi vuol dire che viene pagato dallo Stato meno e direi parecchio meno della metà in questo arco temporale delle retribuzioni dei dipendenti cosa a cui corrisponde lo vedremo dopo fino al 17 agosto il blocco dei licenziamenti questo è il problema ma siccome è un problema che stanno ponendo ovviamente tutte le associazioni imprenditoriali io su questo ecco il decreto legge è un testo per natura precario che già sono in discussione migliaia di emendamenti vedremo se nella conversione legge questa contraddizione in qualche modo sarà sanata però per capire oggi come stanno le cose poi magari lascio Ettore per gli aspetti anche più operativi già descritti in questa slide cioè termini per le domande e tutte le istruzioni per l'uso ma concetto sostanzialmente che è vero che sono raddoppiate le settimane per gli ammortizzatori sociali ma non coprono tutto il periodo e quindi bisognerà poi capire se non cambia il testo come poter gestire eh la rigaduta economica disastrosa per gli istituti di questa eh combinato disposto tra il blocco dei licenziamenti che poi vedremo e eh la cassa integrazione ma già sappiamo che almeno nelle intenzioni manifestate dal Ministero del Lavoro forse si profila un allungamento tanto del blocco dei licenziamenti quanto della cassa integrazione ma non mischierei le intenzioni dei governanti con il testo che oggi abbiamo in mano che è l'unico riferimento che possiamo dare. Allora lascio a te Ettore su questo punto che credo poi sia il piatto principale del nostro intervento. Sì grazie Emanuele buon pomeriggio a tutti e eh ci troviamo nuovamente a parlare di cassa integrazione e di FIS per quello che ci riguarda eh siamo diventati tutti esperti di un qualcosa che nessuno aveva mai conosciuto prima. Come diceva l'avvocato Emanuele le ulteriori cinque settimane con causale covid-19 per chi ha già usufruito delle precedenti nove sono utilizzabili entro il 31 agosto 2020. Quindi il totale delle settimane di FIS da 23 febbraio a 31 agosto ammontano complessivamente a 14. C'è da notare che sono variati i termini di presentazione delle domande e che sono diventati molto più stringenti. quindi bisogna fare molta attenzione e non sottovalutare questo aspetto perché inizialmente la scadenza della presentazione delle domande di FIS che riguardavano il periodo appunto da 23 febbraio al 30 aprile era fissata alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Adesso il decreto legge 34 2020 di cui trattiamo oggi ha portato questo termine al 31 maggio. Questo significa che se entro tale data non si è provveduto all'invio della richiesta la stessa non potrà essere accorta se non per l'ultima settimana ed il nuovo termine per l'invio della domanda è fissato alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione. Quindi come vedete non si può più dormire non dico sugli allori ma insomma stare tranquilli e cercare di capire di ragionare su tutto quello che c'è da fare perché se entro un mese dalla richiesta di cassa integrazione non ci attiviamo a presentare le domande rischiamo di vederci rifiutate il rimborso della cassa integrazione del FIS. Fortunatamente al fine di venire incontro alle aziende perché pare che poi qualcuno vi ragioni ogni tanto ci sia è notizia di questi giorni che la scadenza del 31 maggio è stata spostata al 30 giugno. Dopo di questo non ci saranno più scuse quindi io vi suggerisco di interessarvi se i vostri consulenti abbiano inottrato correttamente queste pratiche per le prime nove settimane altrimenti veramente saranno problemi. Dopo di ciò sono previste ulteriori 4 settimane che possono essere consecutive alle precedenti per i settori del turismo, fiere, congressi, spettacolo mentre per tutte le altre categorie le 4 settimane si possono prendere soltanto nei mesi di settembre e ottobre. Quindi noi avremo le prime nove settimane ormai già fruite ulteriori 5 settimane che possiamo accodare fino ad arrivare probabilmente intorno alla prima decada di giugno e poi si sospende il tutto perché al momento non abbiamo traccia di volerci riconoscere un accodamento delle ulteriori 4 settimane. È pur vero che le vostre associazioni stanno facendo di tutto per ottenere una concessione in tal senso ma a tutt'oggi non abbiamo notizie. Quindi si profila diciamo un periodo veramente critico come potete capire è una strada irta di ostacoli dove nulla è scontato anzi sembrerebbe che sia tutto molto aleatorio. C'è da sapere anche che per queste ulteriori 4 settimane che non sono così diciamo alla fine te le concedo e stai tranquillo che le hai. Non è così perché è stato istituito un apposto capitolo di bilancio dove vengono stanziati per il 2020 circa 2.740 milioni di euro. Ma il trasferimento di queste risorse nei vari fondi quindi FIS, CIG, Cichindero eccetera è rimesso ad uno o più decreti del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia nel rispetto dei saldi di finanze pubbliche da adottare entro il 31 agosto 2020. Quindi poi capita bene che con tutto questo meccanismo contorto si rischia anche di alla fine di non riuscire ad accedere neanche alle 4 settimane laddove ne avessimo la possibilità. Attualmente le 4 settimane sono spendibili in settembre ed ottobre. Ripeto si sta facendo di tutto per cercare di farcele riconoscere anche perché per alcune categorie appunto è stato previsto l'acquodamento non capiamo per quale motivo le scuole non debbano rientrare in queste categorie. Diversamente esaurite le possibilità di accesso al FIS con causale Covid-19 che questa causale è stata un po' lasciavassare se vogliamo perché normalmente accogliersi al FIS prevede una serie di addempimenti burocratici che non sono così snelli. In effetti il FIS lo possono richiedere i datori di lavoro che vanno da 5 a 15 dipendenti o quelli che vanno oltre i 15 dipendenti. In una modalità o nell'altra esistono due diversi tipi di calcoli. Il calcolo dei dipendenti per capire a quale categoria apparteniamo viene fatto riferendosi alla media occupazionale del semestre precedente. Quindi non è sufficiente contare il nostro numero dei dipendenti così attesta ma bisogna fare il calcolo dell'orario di lavoro di ciascuno perché per esempio due part time al 50% fanno un dipendente. E laddove abbiamo delle piccole realtà, magari le piccole scuole di parrocchiali, qualche piccolo istituto che pensa di avere 6-7 dipendenti sviluppando il calcolo in questo criterio si ritrova ad avere meno di 5 dipendenti. E pertanto si vede negata la richiesta di cassa integrazione in FIS perché il limite dimensionale dell'azienda non prevede che debba essere quello il canale al quale va chiesta la cassa integrazione piuttosto che una cassa integrazione in deroga dedicata ai datori di lavoro con meno di 5 dipendenti. Quindi bisogna fare attenzione anche a questo. Inoltre gioca anche l'intera consistenza delle istituzioni che sono sotto lo stesso codice fiscale e pertanto noi avremo la maggior parte degli istituti che superano i 15 dipendenti. Da considerare inoltre nel conteggio dei dipendenti in caso di assunzioni per sostituzioni di malattie, maternità, eccetera, che questi dipendenti vanno conteggiati una sola volta. Non possiamo, o prendiamo i sostituti o prendiamo i sostituiti. Pertanto avvicinarsi a un FIS ordinario ci comporta tutta una serie di obblighi. C'è da prevedere che ci sono consultazioni sindacali da fare, prima c'è da fare un'informativa, poi c'è da fare una consultazione sindacale, confrontarsi con i sindacati che a loro volta faranno anche le loro richieste per poter concedere, diciamo, l'avallo per un ulteriore periodo di cassa integrazione. E la procedura è abbastanza lunga se si rischia di attivare questa procedura e siamo arrivati alle ferie per quello che riguarda gli istituti scolastici. Quindi io direi che di valutare bene se accedere o meno a questa possibilità oppure trovare qualche altra forma, qualche altra soluzione tra le parti che potrebbe, diciamo, salvare caprecavoli. C'è da considerare negli istituti che qualcuno avrà fatto anche le 70 ore e quindi buona parte del mese di giugno non è da prendere in considerazione. Qualcun altro magari non ha fatto nulla. Quindi sono situazioni da verificare caso per caso ed eventualmente se in questi giorni non accade nulla che possa essere soddisfacente, che possa darci qualche tranquillità, cominciare a pensare, questo è il mio parere, cominciare a pensare di fare degli accordi con i lavoratori per eventualmente gestire una sorta di banca ore. Quindi noi ci rendiamo conto che i lavoratori hanno delle difficoltà obiettive economiche, quindi anche loro hanno necessità di avere una retribuzione. L'istituto, dal canto suo, non ha queste facoltà di poter retribuire se non ha, diciamo, incassi e rette che coprono, quindi non riuscirebbe a sostenere un costo così, diciamo, senza una contropartita. Un'idea potrebbe essere quella di metterci d'accordo, e eventualmente conteggiare quante ore vengono perse ed eventualmente recuperarle durante l'anno scolastico come ore aggiuntive senza retribuzione perché sono state già retribuite precedentemente. Io spero che il governo, siccome si vocifera anche una proroga di questa cassa integrazione fino a dicembre, ma non sappiamo con quali modalità, sono ancora voci di corridoio. Quindi io spero che nel giro di una settimana ci sia un po' di luce, un po' di chiarezza, e così potremmo fare le nostre mosse. Tu Emanuele che ne pensi? Ti ringrazio, ovviamente ci siamo soffermati un po' di più su questa parte perché è chiaramente la più importante. Mi sembra utile il ragionamento di valutare una soluzione condivisa con i dipendenti, anche con degli accordi individuali, come già le nostre scuole fanno, penso per esempio ai ponti, le settimane bianche, in cui spesso si concorda il recupero in altro momento dell'anno, perché senza alcune soluzioni creative si rischia di rimanere un po' invischiati nelle trappole molto rigide di queste norme. Mi viene anche da pensare che se verrà prolungata la cassa integrazione fino a dicembre, però come conciliarlo con quello che auspichiamo tutti, cioè che da settembre si ritorna a scuola per tutto il normale orario di lavoro dei docenti, auspichando che il virus ce lo permetta, quindi avremo prossimi webinar quando sapremo anche il Covid-19 se e come ci risparmerà per capire questi aspetti. Però ragioniamo nella prospettiva che con tutte le limitazioni del caso, a settembre le scuole riapriranno e quindi probabilmente il personale dovrà lavorare ed essere retribuito e quindi mi pare ancora più necessario quel discorso di accordi con i lavoratori che facevi adesso tu. Andrei velocemente, li abbiamo solo elencati su alcuni diritti dei lavoratori riconosciuti da questa normativa, perché per ragioni di tempo poi non possiamo approfondire tutto, ma credo che oggi ci interessi più che altro analizzare per i gestori quali sono i noti operativi più importanti. Però ricordiamo che con quel meccanismo del raddoppio che dicevo prima, intanto è stato esteso a 30 giorni e non più a 15 il congetto straordinario retribuito per i genitori con i figli minori di 12 anni pagato al 50% da godere entro il 31 luglio. Ricordo che nel decreto rilancio quasi tutto all'orizzonte temporale del 31 luglio che è il termine fino al quale è riconosciuta l'emergenza sanitaria, ma tutti sappiamo che questo termine verrà ovviamente prolungato sicuramente già nella conversione in legge. Accanto al congetto retribuito al 50, che non è cambiato, esiste il congetto non retribuito col diritto alla conservazione del posto fino alla sospensione delle attività didattiche che è parzialmente stato modificato perché spetta ai genitori con i figli minori di 16 anni e non più come nel decreto cura per i genitori di figli tra 12 e 16 anni. Quindi a tutti i genitori di figli con meno di 16 anni, in aggiunta al congetto retribuito al 50, quindi anche per i giorni eccedenti, i 30, viene riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro con conservazione del posto. Così come è stato raddoppiato il famoso bonus babysitter che come sapete è riconosciuto anche in alternativa per l'iscrizione ai centri estivi, altro tema che sta agitando gli istituti che secondo anche le indicazioni locali potranno procedere ai centri estivi pur con tutte le complessità. Studiavo questa mattina per esempio la normativa del Piemonte e mi chiedevo quali sforzi, quali rischi e quali investimenti che si occorre affrontare per gestire una normativa così riconosciuta. E segnalo anche che sono stati riconosciuti i permessi di cui la legge 104 per 12 giorni nei due mesi di maggio e giugno che si aggiungono ai tre per ogni mese già riconosciuti in via ordinaria dalla legge. Sì che chi è titolare dei permessi 104 complessivamente per questi due mesi ha diritto a 18 giorni di permesso, cioè 12 più 3 più 3. Permessi che aspettano, poi magari su questo non so se Ettore vuole aggiungere qualcosa, anche i lavoratori, i smart working, perché qualche datore ci chiede in questo periodo ma se il dipendente sta a casa perché sta in smart working, perché vuole anche il permesso della 104 se la nonna che assiste sta vicino a lui? Intanto sì, questa domanda già spesso fa capire come nel comune sentire sociale in Italia smart working non sia lavoro sia lavoro di serie B perché intanto si presume che se uno sta a casa ma sta lavorando e smart working non può assistere la nonna, la zia o il familiare perché è impegnata nell'attività lavorativa. Ma diversi interventi di chiarimento amministrativo e giurisprudenziale già da quando esiste lo smart working hanno chiarito che il dipendente che è lavoro agile ha gli stessi diritti degli altri lavoratori tra cui chiedere i permessi della 104. Se Ettore è d'accordo completo con il blocco dei licenziamenti poi lascia a te. Volevo solo aggiungere una cosa, che i permessi 104 possono essere concessi anche per quei lavoratori che sono parzialmente in FIS. Quindi se il lavoratore è totalmente in FIS ovviamente non c'è bisogno di chiedere nessun permesso perché non sta lavorando e può dedicarsi all'assistenza del disabile. Se fosse parzialmente in FIS avrebbe diritto in proporzione ad una concessione di permessi 104. Non necessitano ulteriori autorizzazioni INPS al di fuori di quella già in possesso del dipendente che deve avere per forza perché originariamente ha chiesto all'INPS questa autorizzazione. Questo può andare avanti, grazie. Grazie. E veniamo alle noti non dolenti ma dolentissime dell'articolo 80, blocco dei licenziamenti, norma che credo non abbia precedente nella storia legislativa del Paese che sta suscitando grandissimi polemiche e forti dubbi di costituzionalità anche rispetto all'articolo 41 della Costituzione che è quello che riconosce la libertà di impresa. Ma l'epoca è straordinaria e assistiamo anche a volte un po' basiti a norme a cui non siamo certamente abituati. Ma bene ricordare che fino al 17 agosto, ma probabilmente è un istituto che serve immagino anche per garantire la pace sociale perché leggevo l'intervista di questa mattina al presidente di Confindustria Lombardia che già minaccia ma comprensibilmente dal punto di vista di Confindustria quando accadrà questo blocco ci saranno milioni di licenziamenti e ci sarà un problema sociale gigantesco ma fino al 17 agosto, perché è stato prolungato di due mesi, il decreto cura era del 17 marzo, c'è il blocco dei licenziamenti. Non tutti i licenziamenti, solo i licenziamenti cosiddetti economici che sottendono due grandi tipologie. Licenziamento collettivo, e qui veniamo a un problema Ettore che molti istituti stanno ponendo perché con la crisi economica molti genitori non iscriveranno i figli, quindi alcune scuole già stanno valutando se chiudere o chiudere alcune corsi o alcune classi. Ecco, i licenziamenti collettivi non sono possibili fino al 17 agosto ma neanche licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo come per esempio la contrazione delle attività o la chiusura della scuola di una parte della scuola mentre rimangono perfettamente leciti e possibili i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo o giusta causa cioè licenziamenti per comportamenti non corretti, sanzionati disciplinarmente del lavoratore. Questo è un tema ovviamente delicato perché nel momento in cui alcuni istituti si stanno ponendo il problema e ce lo stanno chiedendo posso chiudere la scuola l'anno prossimo? Quando la posso chiudere? Perché se devo aspettare che cade il blocco di licenziamenti che faccio? Lo dico ai genitori, il 10 settembre partiranno subito le cause civili e penali per truffa perché il nostro è un servizio pubblico risarcimento d'anni per non aver avuto il tempo di iscrivere o di scegliere un altro istituto ecco, allora qui direi, poi su questo magari lascio qualche riflessione di Ettore intanto di disgiungere il rapporto giuridico con le famiglie da quello con i lavoratori cioè se oggi l'istituto decide di chiudere è libero di farlo, è libero di comunicarlo ai genitori anzi lo deve comunicare nel tempo utile per poter adottare delle decisioni dopodiché appena cade il blocco si faranno partire le procedure per i licenziamenti ma non ci sfugge che unendo il tempo necessario per tutte le procedure sindacali che durano almeno un paio di mesi, ne credo che il 17 agosto se questo blocco non viene prorogato tutti i sindacati saranno pronti il 18 mattina per avviare le procedure più 4 mesi di preavviso, sostanzialmente io direi che proprio fatta eccezione per casi di straordinaria necessità conviene resistere per un anno anche perché riteniamo probabile, credo sia io che Ettore, che questo divieto sarà prolungato ma in ogni caso forse avere pochi alunni l'anno prossimo risolve anche un po' il problema del distanziamento, di tutto ciò di cui non parliamo oggi ma che conosciamo quindi poi ognuno chiaramente valuterà le proprie strategie e le proprie condizioni però è bene rappresentare che decidere adesso di chiudere o ridurre l'attività per il prossimo anno vuol dire andare incontro a un gigantesco punto interrogativo ma anche a dei costi che sono enormemente superiori a quelli che normalmente a chiudere la scuola perché rischiamo di dover comunque pagare un numero di mensilità senza il servizio per cui è bene ricordarsi di questo aspetto perché adesso è il momento in cui si decide non solo come andare avanti l'anno prossimo ma anche se andare avanti in alcune realtà non so Ettore se rispetto a questo punto sì, sono pienamente d'accordo è chiaro che sono situazioni da valutare purtroppo giorno per giorno secondo le variabili che ci sono e che sono tante al di là dell'aspetto normativo c'è appunto la variabile dei genitori se decidono di continuare a venire presso i nostri istituti o fanno delle scelte diverse è pur vero, forse d'altro canto mi chiedo Emanuele se i vari comuni e regioni abbiano la forza però di mantenere un'istituzione scolastica se permanono queste misure di distanza che chiaramente portano ad avere meno bambini forse le strutture scolastiche paritarie in questo caso farebbero non solo comodo agli stessi paritari ma addirittura ai comuni chissà se qualcuno potesse pensare di fare delle convenzioni con gli istituti paritari che hanno degli ambienti bellissimi pronti ad accogliere i giusti bambini contro istituti pubblici fatiscenti e che non riuscirebbero a gestire la massa di alunni quindi forse qualcuno si potrebbe affacciare e pensare a una sorta di convenzioni con questi enti volevo precisare che comunque nei licenziamenti quelli a termine naturalmente finiscono quindi laddove abbiamo lavoratori che il rapporto di lavoro cessa perché è nato già a termine quello automaticamente finisce volevo gettare un ancora di salvataggio se così si può dire io ho notato non so se anche tu sicuramente hai visto questo Emanuele c'è una vacazio legis nei giorni 17 e 18 maggio nell'intervallo tra un decreto e l'altro perché il decreto Pura Italia prevedeva il blocco di vieto o di licenziamento fino al 16 maggio il decreto rilancio prevede parte dal 19 data di approvazione rimane il buco di due giorni se qualcuno avesse commesso l'errore di licenziare in quei due giorni probabilmente non è perseguibile perché in quel momento le leggi non operavano correggimi se sbaglio allora non mi risultano casi di istituti almeno a me noti che abbiano agito in questo senso è uno dei punti irrisolti ma almeno la dottrina che sto leggendo in questi giorni è abbastanza unanime nel ritenere che la disposizione abbia efficacia retroattiva perché si pone in continuità con quella della normativa precedente quindi preferisco rafforzare la convinzione che nessun istituto abbia operato questi licenziamenti altrimenti non sarebbe facile uscirne ma credo proprio che non sia stato alcun caso di questo tipo bene possiamo andare avanti sullo smart working credo che tutti abbiate preso confidenza con questa modalità di lavoro in questo periodo ovviamente il decreto rilancio è fino al 31 luglio ma come dicevamo il problema si vorrà anche per l'anno prossimo viene codificato il diritto allo smart working per i datori che abbiano figli minori di 14 anni salvo che l'altro coniuge non goda già di alcune delle norme di favore del decreto rilancio di sostegno al reddito ci tenevo a dire soprattutto per la prospettiva del prossimo anno anche perché è un istituto preziosissimo e forse sarà conservato anche in futuro pure per conciliare le esigenze di vita penso a un paese con un tasso demografico drammatico come il nostro con le attività lavorative dall'altra parte poiché molti lavoratori hanno scoperto quanto è gradevole lavorare in poltrona a casa propria molti cominciano a invocare il diritto allo smart working ricordiamo adesso ma anche a memoria futura che intanto anche per chi ha figli con meno di 14 anni il decreto rilancio non riconosce questo diritto se la modalità agile non è compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa sicché il docente ne è anche a parlarne ma pensa a un segretario amministrativo di una scuola che dice ma io anche da casa mi collego e posso non è vero perché hai un compito front line ricevi le persone devi interagire con i docenti che stanno a scuola quindi chiariamolo non esiste nessun diritto allo smart working neanche per chi ha figli piccoli perché è sufficiente per l'azienda dimostrare che quella prestazione non è utile in tutto e in parte se resa da casa propria ecco questo mi sembrava importante perché è uno dei temi su cui ci sarà da discutere anche in futuro l'ultimo punto prima della sicurezza poi lascio Ettore una conclusione su questa parte sia sullo smart working che sui contratti a termine non so quanto questo dei contratti a termine sia un punto che interessa le nostre scuole per come è strutturato un po' da noi il contratto a termine ma in ogni caso anche qui con un grande punto interrogativo farò la domanda a Ettore su questo perché è un chiarimento prezioso ma è stabilito che non si applica la normativa generale per cui ci vuole la causale tranne il primo contratto a termine quindi si possono liberamente rinnovare o prorogare ma non stipulare nuovi contratti a termine prorogare vuol dire quelli ancora non scaduti allungarli e rinnovare vuol dire un nuovo contratto già scaduto fino al 30 agosto quindi ripeto no a nuovi contratti a termine senza la causale sì alla proroga o al rinnovo fino al 30 non nel 31 agosto qualcuno sta cercando di capire se è un errore di battitura o c'era qualche raffinato retro pensiero che però nessuno di noi ha capito ma soprattutto la domanda per Ettore è secondo te si intende che la proroga o rinnovo va stipulata entro il 30 o che il termine comprensivo della proroga del rinnovo deve scadere il 30 mi sembra una domanda drammatica per i nostri istituti perché se si sbaglia c'è la conversione a tempo indeterminato come sanzione quindi a te lardo sentenza Ettore ma sai qui bisognerebbe essere nella testa del legislatore perché la logica ci suggerirebbe che da entro il 31 io posso fare tutte le proroghe che voglio per farle finire poi quando ritengo necessario sembrerebbe invece più stretta la norma per cui io posso prorogare senza causali e tutto il resto ma fino al 30 agosto questo sembra l'orientamento prevalente però è subiudice cioè non si rapporta a quello che la logica vorrebbe e anche perché per quello che riguarda noi sinceramente nessuno di noi prorogherebbe un lavoratore che finisce a giugno fino al 30 agosto perché non avrebbe veramente nessun senso pertanto per noi al momento non ha nessuna finalità è ininfluente se rimane quel pensiero se poi qualcuno ce lo vorrà chiarire a quel punto potremmo fare le nostre valutazioni e potrebbe diventare interessante perché se come tu sai la causale prevede senza causale massimo 12 mesi ed è un po' stringente se invece ci consentono di ampliare per un ulteriore periodo non ben venga a quel punto con le dovute proroghe si potrebbe andare avanti ancora un po' con questi tempi determinati ma ad oggi sinceramente non saprei dirti fai questo o per l'altro nel dubbio è sempre meglio la prudenza quindi l'interpretazione più rigorosa che non andare oltre il 30 agosto avevamo preparato una seconda parte sulla sicurezza ma l'interesse per questi temi ci ha portato ad andare credo oltre il tempo massimo confidiamo nella bontà della Presidente nell'organizzare sicuramente una riflessione anche abbinata alle prassi di riferimento sulla didattica a distanza perché io sono convinto che l'anno prossimo il vero problema giuridico non è l'amortizzatore sociale o contratto a termine ma è la sicurezza perché nel riaprire le scuole ci dovremo porre questo tema allora salto tutte le slide che affitto alla lettura individuale ma proprio in tre minuti volevo darvi un aggiornamento recentissimo sul tema della sorveglianza sanitaria dello scudo penale perché è proprio normativa di questi giorni su un tasto delicatissimo anche perché le scuole adesso stanno programmando poi l'offerta formativa per il prossimo anno e comunque alcune attività come gli esami di maturità richiedono la presenza di alcuni lavoratori nelle scuole fino adesso noi abbiamo ragionato di sorveglianza sanitaria ordinaria secondo il testo unico sicurezza sul lavoro che la richiede per alcuni lavoratori soltanto e sappiamo anche che alcune scuole non hanno il medico competente il decreto rilancio all'articolo 83 introduce fino al 31 luglio ma varrà anche per dopo però adesso stiamo almeno per le presenze che abbiamo in questi giorni una sorveglianza sanitaria straordinaria per i lavoratori fragili dove lavoratori fragili sono tutti coloro i quali sono esposti al rischio di contagio intanto a ragione dell'età sopra 55 anni quindi molti dei nostri lavoratori ma anche condizioni pregresse patologiche non solo di malattie gravi ma anche per esempio l'ipertensione arteriosa che è un fatto molto frequente e se il medico competente non svolge la sorveglianza sanitaria per questi lavoratori occorre mandarli ai servizi territoriali dell'INAIL questo è importante perché un lavoratore che non sia oggetto di sorveglianza sanitaria straordinaria pur essendo fragile che contraesse il covid in questi giorni ci può fare una denuncia che ci comporta una sanzione enorme civile e penale quindi bisogna stare attentissimi in questa fase coinvolgere il proprio medico del lavoro ma anche considerare che per il prossimo anno ma ne parleremo se in sede di conversione sarà prorogato dopo il 31 luglio anche questo articolo ma porsi in maniera seria il problema della sorveglianza sanitaria l'altro e ultimo punto che non è del decreto rilancio ma infatti l'ho aggiunto alle slide proprio ieri sera perché è stato inserito nel decreto liquidità nella legge di conversione del 5 giugno il famoso scudo penale che vuol dire questo è lo scudo di Achille che ho messo che ho messo qui e cioè che da quando l'Inail ha equiparato il contagio da covid da infortunio sul lavoro è nato un dubbio drammatico per le imprese e cioè se il dipendente si contagia noi rischiamo una responsabilità penale o civile che vuol dire risarcire il danno al lavoratore nel danno differenziale da quanto riconosce l'Inail ma anche subire l'azione di rivalsa dell'Inail oltre alla responsabilità penale per i reati di omicidio o di lesioni ecco questo scudo penale esattamente come il decreto rilancio cioè un titolo rassicurante se uno legge l'articolo capisce che non ha assolutamente nulla da cui essere rassicurato perché lo scudo penale dice che i datori di lavoro non rispondono civilmente penalmente se applicano il protocollo nazionale del 24 aprile e le indicazioni che a livello locale sono date dalle autorità locali in applicazione di quel protocollo quindi vuol dire e vi lascerei con questo messaggio che ritengo di fondamentale importanza anche perché ascolto anche spesso questi giorni istituti che stanno accogliendo lavoratori senza aver redatto protocolli aziendali conformi al protocollo nazionale e senza aver aggiornato il documento di valutazione rischi e il duvri quando ci sono appalti come quasi sempre ci sono negli istituti religiosi che la lettura al contrario di questo scudo penale è che l'istituto che non ha adottato dei protocolli aziendali coinvolgendo medico del lavoro RLS RSPP e datore di lavoro con delle procedure scritte che in modo chiaro e tracciabile governano il rischio da contagio al primo caso di infezione di un alunno di un genitore o di un dipendente incorrono in gravi sanzioni è vero che è un problema da porsi per il prossimo anno insieme alle misure che il ministero nella sua bontà vorrà darci prima forse che andiamo tutti in vacanza per poter definire il POF dell'anno prossimo ma questo è un testo già in vigore vale già per i dipendenti che stanno avvenendo in questi giorni per cui il mio richiamo accorato e per chi non l'abbia fatto a prendere con urgenza in mano il protocollo nazionale di aprile e scrivere un protocollo interno che punto per punto dica l'istituto come applica il protocollo nazionale perché con la responsabilità civile ci si salva con le assicurazioni ma dalla responsabilità penale è difficile salvarsi se avete qualche domanda poi saremo a disposizione con Ettore dopo l'intervento di Angelo per nei limiti da poco tempo dare una risposta ma anche chattando magari qualcosa possiamo già dirvi subito allora chiudo il microfono e passo al ragioniere Agostinis per la parte fiscale e devi riaccendere il microfono Angelo siamo in posto bene perfetto assoluto buon pomeriggio tratterò sul decreto famoso decreto rilancio come anticipato l'avvocato Montemarale un decreto estremamente complesso c'è un po' di tutto in verità però come tutti i decreti legge dovrà essere riconvertito in legge tempo 60 giorni dalla data della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale che ricordo è il 19 maggio dico questo perché perché in verità in fase di approvazione definitiva da parte del Parlamento ci sono stati degli interventi consistenti che andranno sicuramente a modificare sostanzialmente il decreto così come è stato emanato il 19 di maggio porto un esempio banalissimo che ci può anche interessare riguardare l'articolo 119 del decreto legge quello del 19 maggio prevede un bonus un super bonus del 110% di lavori di riqualificazione energetica di messi in sicurezza dell'edificio e quant'altro bene per questo su questo articolo sono stati presentati 413 emendamenti tra questi emendamenti c'è uno che per noi potrebbe essere di estrema importanza cioè che da che è presentato poi dalla maggioranza da la possibilità di estendere il famoso super bonus cioè il 110% anche ai letti non commerciali e allora è una logica di eventuale volontà di investimenti per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza degli edifici considerato che l'articolo 119 prevede che il super bonus riguarderà i lavori in seguito del primo di luglio è evidentemente il consiglio che si può dare aspettiamo il primo di luglio vediamo se nel frattempo la modifica all'articolo 119 allargerà questa circolazione di legge anche ai denti non commerciali procedo invece alle indicazioni e in ordine progressivo numerico per quanto riguarda gli articoli di legge sono un po' così non c'è un coordinamento ben definito nella stesura del decreto l'articolo 24 parla del versamento degli IRAP noi sappiamo che il saldo IRAP 2019 primo conto 2020 non sono dovuti naturalmente con un unico limite di ricavi compensi superiore ai 250 milioni perciò chiaramente ci siamo dentro tutti quello che a me interessa invece è richiamare un mentino l'attenzione sull'articolo 25 che ha come riferimento il contributo a fondo per tutto perché le modalità attuative sono state proprio definite con un provvedimento di recensione dell'entrata del 10 giugno perciò una cosa recentissima la parentesi in tarda serata cosa dice il provvedimento l'articolo 25 che fa apparenza di ripeto l'assenzio dell'entrata ha provenuto a emanare il provvedimento nonostante il decreto legge sia sì in vigore ma non ancora tramutato in legge evidentemente sono tranquilli che arriverà a buon fine e il riconoscimento dell'articolo 25 premessa sono esclusi dal contributo coloro che hanno compensi e ricavi per un importo superiore di 5 milioni evidentemente aspetto dimensionale nelle modalità attuative ci sono delle interessanti indicazioni proprio per evitare che si vada a commettere errori nella presentazione della dichiarazione che l'articolo appunto 25 prevede deve essere fatta dal soggetto interessato e allora cosa dice per gli enti non commerciali per incontabilità ordinare o semplificata si fa ritenimento per gli ordinari all'RS 111 e qui è da un momento di non soffermarci nel rico RS 111 vanno indicati la montata dei ricavi lettera A e B dell'articolo 85 testo unico cioè corrispettivi di cessione di ventre e prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa questo recita l'articolo la cosa interessante cos'è che nell'elencare nell'elencare all'assommatore diciamo così dei corrispettivi per cessione di prestazione di beni e servizi la circolare ministeriale che dettaglia e dà istruzioni sulla compilazione di questa richiesta di finanziamento precisa che concorre alla formazione della montata del fatturato anche l'accessione di beni strumentali questo cosa significa che se casualmente io al mese di aprile ho venduto un bene strumentale che mi può portare fuori dai limiti di legge sono penalizzato però ripeto è da verificare sistematicamente l'affronto come deve essere fatto deve essere considerate tutte le fatture attive chiaramente e corrispettivi le fatture sempre a netto di IVA con la data di effettuazione dell'operazione compresa dal primo al 30 di aprile comprese anche le fatture differite emesse nei mesi di maggio e relative naturalmente ad operazioni del mese di aprile può accadere che il contributo se fatturato può essere accesso il contributo si il fatturato dell'aprile 2020 rapportato all'aprile 2019 si è inferiore ai due terzi comunque si è registrata una diminuzione di un terzo sostanzialmente questo è l'aspetto fondamentale il contributo minimo per gli entri non commerciali di 2.000 euro quello che è importante è poi la suddivisione a scaglioni che è rappresentata dal volume d'affari cioè il 20% per i cavi e compensi nel 2019 non superiori ai 400.000 euro 15% per i cavi compensi dai 400.000 euro a un milione e 10% per i cavi compensi da un milione a 5 milioni perché abbiamo chiarito che il tetto massimo finanziabile è per coloro che hanno corrispettivi al massimo di 5 milioni la domanda i tempi di presentazione della domanda dal 15 di giugno al 13 di agosto come su apposita istanza telematica d'agenzia dalle entrate che come dicevo oggi è già reperibile sul sito dell'agenzia stessa naturalmente bisogna attestare la sussistenza dei requisiti comunicare il conto corrente bancario verso il quale si chiede che venga accreditato il contributo e poi naturalmente nel caso in cui il contributo così quantificato risulta essere superiore ai 150.000 euro è necessario anche una autocertificazione per la regolarità antimafia l'aspetto importante abbiamo adesso avviso proprio questo da sottolineare anche quelle che sono le eventuali sanzioni perché bisogna stare molto attenti dunque nella predisposizione di questa richiesta perché come potete capire la richiesta è automatica è chiaro che i controlli vengono fatti e anche è tanto vero che immagino che si procederà anche all'incasso potenziale incasso di conoscimento quantomeno dell'importo in termini relativamente brevi perciò attenzione nella compilazione della richiesta di rimborso altro aspetto importante il contributo non è imponibile ai fini il SNI RAP ne concorre naturalmente alla quantificazione del prorato di riduzione delle spese generali e interessi passivi perciò il contributo che viene dato che viene incassato però non concorre per l'anno ovviamente 2020 non è imponibile nei fini il SNI e nei fini di RAP e questo mi sembra abbastanza chiaro l'aspetto interessante è proprio quello che volevo sottolineare è che nella formulazione della quantificazione del fatturato è inserito anche l'accessione di beni strumentali l'accessione di beni strumentali in verità nel famoso articolo 85 e il terzo che imposta di retta mi sarebbe esclusa perciò attenzione verificare se nel mese di aprile dell'anno scorso è stata o meno effettuata una vendita di beni strumentali per poter dunque creare e rettificare la montare del fatturato stesso spero di essere stato chiaro articolo 28 penso che riguarderà ben poche situazioni comunque va citato è il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili non a uso abitativo anche qui credo che sia una cosa abbastanza non molto diffusa comunque è un credito d'imposta pari al 60% per i canoni versati in marzo aprile e maggio del 2020 è fondamentale che immobili è dato in locazione non li entri nella categoria ma si è censita appunto come utilizzazione diversa tra le cibi di abitazione guardiamo invece l'altro aspetto operativo che riguarda gli aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari qui ovviamente sappiamo tutti l'obbligo dei licenziamenti e quant'altro provvedimenti che potranno essere fatti anche dalle regioni province autonome enti territoriali a camera di commercio e qui naturalmente toccherà all'avvocato Montebrano e Ceren Ferraro dilungarsi su questo argomento anche se abbiamo adesso avviso non ci sarà un gran ritorno per il comparto scuola stante le modeste disponibilità di questi soggetti territoriali l'articolo invece 120 del decreto deve essere visto con attenzione perché è intitolato il decreto d'imposta per l'adeguamento degli ambiti di lavoro degli ambienti di lavoro perciò le imprese artisti professionisti e quant'altro è riconosciuto un decreto d'imposta per le spese sostenute per l'adeguamento degli ambienti di lavoro attenzione però si fa riferimento anche a un allegato 1 dove l'attività scolastica non è compresa è vero che si fa riferimento ma si dà la possibilità anche agli enti del terzo settore ma ripeto il riferimento all'allegato 1 e l'attività scolastica non è compresa per quanto riguarda poi gli enti del terzo settore sappiamo che gli enti eglesiastici per quanto riguarda la riforma del terzo settore ne sono formalmente esclusi abbiamo invece l'articolo 125 questo si tocca anche a noi finalmente riguarda il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione il decreto ricordiamo ancora quello del 17 marzo che è stato poi convertito con il 24 aprile è stata autorizzata una spesa anche per le scuole paritarie per la pulizia straordinaria dei locali nonché dei dispositivi di protezione e igiene personale sia per personale che per studenti c'è una circolare del ministero dell'istruzione del 30 maggio 8.644 il protocollo è stato previsto che ci siano degli appositi fondi di ripartizione a livello regionale che saranno erogati alle singole scuole in paritaria cosa prevede l'articolo 125 comunque prevede che il riconoscimento di un credito d'imposta fino alla misura massima di 60.000 euro è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 perciò da fino al 31 dicembre 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati per le attività l'acquisto di dispositivi di protezione individuali e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli studenti specificatamente possiamo definire la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività perciò le nostre aule segreterie strumenti utilizzati anche nell'ambito dell'attività perciò tutto ciò che va a essere a contatto con il nostro mondo l'acquisto di dispositivi di protezione individuale mascherine guanti visiere occhiali protettive tutte eventuali l'acquisto di prodotti detergenti desifittanti come sappiamo perfettamente quali sono le normative in tal senso per quanto riguarda la sicurezza dell'ambiente di lavoro e gli acquisti dispositivi atti a garantire la sicurezza interpersonale quali barriere pronelli protettivi eventuali anche spese di installazione degli stessi su questo discorso naturalmente dovremo anche vedere quelle che saranno le risoluzioni da parte del NUR per quanto riguarda la possibilità di accedere all'attività scolastica e quali limiti porranno a livello di distribuzione fisica dei nostri allumi comunque spetta l'agenzia delle entrate di emanare il provvedimento attivo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge prima la legge deve essere convertita in legge entro 30 giorni poi l'agenzia delle entrate ci dirà esattamente cosa potremmo fare considerato che comunque l'entità messa a disposizione da parte del governo l'entità a mio modesto avviso abbastanza modesta speriamo che non si vada a finire come per le biciclette il famoso sistema click day cioè praticamente le aziende presentano la domanda poi chi prima è più veloce nel cliccare ottiene un numero di protocollo chi prima è veloce nel cliccare e inserire il suo dato riceve il contributo fino al tetto massimo consentito dal provvedimento è più veloce e gli altri sono fuori benissimo per quanto riguarda l'aspetto altrettanto significativo è l'articolo del 126 e 27 che provano i termini di riscossione di versamenti anche qui tutto è prorogato al 16 di settembre e naturalmente aspetteremo poi indicazioni che forse probabilmente ci saranno ulteriori slittamenti istante la situazione di difficoltà delle aziende l'articolo 140 prevede la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri qui in verità non è che ce ne saranno non ci saranno ma insomma ci potrebbe essere qualche attività specifica resa comunque all'interno della scuola ma è riguardo comunque coloro che hanno avuto un volume d'affari inferiore ai 400 mila euro e che si troverebbero avere l'obbligo di inolto della memorizzazione telematica dei corrispettivi giornali del primo di luglio tutto questo è stato prorogato al primo dicionario del 2021 come è stato prorogato al 2021 anche la lotteria sugli scontrini e anche questo è una cosa quello che mi interessa invece e questo sicuramente può essere utile per noi è affrontare il discorso dell'esenzione a conturino sul settore turistico e la possibilità di riferimento di termini di versamento in materia di Imo su questo punto mi sono state presentate delle domande delle richieste di chiarimento in che senso noi sappiamo che appunto l'articolo 177 prevede per le strutture discettive la possibilità di eliminare l'acconto dell'Imo non si paga ed è controcanto anche la possibilità da parte dell'amministrazione comunale di riferire l'acconto Imo che come tutti ricordiamo scade il primo acconto scade il sedice di questo mese su questo punto è intervenuto il ministero nell'economia delle finanze con un provvedimento il quale chiarisce i comuni possono riferire i termini di riferimento del primo acconto cioè quello del sedice giugno però solamente per la quota che riguarda loro non per la quota attivante allo Stato conseguentemente nell'ipotesi in cui qualche comune che in realtà molto pochi avesse riferito il termine di riferimento del sedice di giugno dovremmo anche rivedere il tutto perché dovremmo distinguere la quota a favore del comune e conseguentemente accantonarla e riferirla ma versare comunque entro il sedice di giugno la quota a carico dello Stato c'è una cosa che poi mi interessava sempre per quanto riguarda questo famoso articolo 177 che non è attinente alla scuola però ovviamente può coinvolgere l'ente ecclesiastico l'articolo 177 ha previsto l'esonero del versamento della conta a favore dei settori particolarmente colpiti quali stabilimenti barneari e poi a seconda fattispecie gli immobili agriturismi villaggi turistici osteri della gioventù i rifugi di montagna delle colonie marine montare delle affittacamere dei brevi soggiorni delle affittacamere attenzione delle case appartamenti per vacanze bed and breakfast dei residents e dei campeggi condizione però che siano i proprietari i soggetti i soggetti gestori quello che vorrei far notare è che nell'elencazione prevista dall'articolo 177 non sono menzionate le case per ferie a questo punto la domanda assorcia spontanea è allora che una congregazione che si ritrova ad avere una casa per ferie noi sappiamo che normalmente le case per ferie sono inserite teniamo presente che le normative in questa materia di competenza delle regioni sono inserite tra le strutture recettive complementari non avendo elencato l'articolo 177 non avendo riportato anche l'acevolazione anche per le case per ferie sostanzialmente dimostra da pagare oppure no su questo punto è difficile dare una risposta immediata però io direi a modo di conforto di vedere quella che è la normativa regionale appunto di ogni singola regione vedere ciò che le regioni prevedono come strutture recettive e complementari e vedere se nell'elenco sono comprese o meno le case per ferie molte volte lo sono la domanda che so è spontanea è è stata un'omissione voluta o è stata semplicemente una dimenticanza da parte del legislatore che nel menzionale tutta una serie di soggetti agevolati appunto perché agiscono all'interno del settore turistico si trova a dover affrontare un voto eccezionale con delle perete paurose le case per ferie dunque sono o non sono esenti evidentemente una risposta certa non la possiamo dare forse probabilmente in sede di conversione del provvedimento avremo anche tra le circolari applicative o se avremo un chiarimento da parte del ministero delle finanze o dell'agenzia delle entrate in questo momento onestamente non sono in grado o non mi sento di assumere la responsabilità di asserire che essendo le case per ferie comunque all'interno delle strutture eccettive complementari sono esenti esenti dall'Imo come primo appunto io personalmente devo dire che se voglio pensare comunque per le congregazioni che seguo applicherò questo criterio guardando quelle che sono le normative regionali e vedendo quelle che sono le diverse fattispecie di immobili che sono considerate esenti oltre le alberiche e quant'altro dunque ritengo che ritengo che probabilmente se la normativa regionale comprende come un 90% di casi la casa per ferie per le strutture eccettive complementari possono godere o devono godere anche loro dell'eventuale assicurazione questo sempre a mio modesto avviso vedo che il tempo sta scorrendo io mi fermerei qui su questo tema come potete vedere è un qualcosa che è tutto da definire l'unica cosa che è certa come indicazioni ma fin tanto che non diventa legge evidentemente certa non è riguarda il contributo a fondo per tutto quali però comunque i vostri consulenti potranno già cominciare a fare dei calcoli e anche comunque presentare domande perché se ci sono 16 c'è la possibilità di farle con quell'unica avvertenza che mi permetto di sottolineare perché il testo unico dell'articolo 85 in verità le scuderebbe che ai fini della quantificazione del fatturato del mese di aprile vanno inserite anche l'eventuale cessione dei beni strumentali cedo la parola ecco allora diamo la parola a Emanuele Montemarano e a Ettero Ferraro per rispondere alle domande che sono pervenute attraverso la chat ok non si sente Emanuele ah è vero perché non avevo acceso il microfono chiedo perdono dicevo io ho dato la risposta in chiaro scritta quasi tutte le domande ragioniere Agostini se ne aveva un paio per lui può rispondere adesso quindi lascerei gli ultimi minuti a ragioniere Ferraro per le prime tre quattro domande che erano tutte legate alla parte di sua competenza sì allora tra le varie domande ne è arrivata una che ci chiede se sono previsti diciamo se c'è presa una proroga di permessi legge 104 dopo giugno al momento non abbiamo notizie di questo quindi per il momento i permessi 104 sono fermi a giugno abbiamo un'altra richiesta ed è anche abbastanza interessante perché ci si chiede se i crediti da cassa integrazione che vengono autorizzati dall'Inps hanno una scadenza ebbene sì bisogna sbrigarsi a recuperare questi crediti che l'Inps ci autorizza stanno stanno arrivando tutte le autorizzazioni con tutte le caratteristiche per poterli recuperare ci sono indicazioni di andare a consultare il cassetto previdenziale sul cruscotto e lì vengono riportate tutte le caratteristiche della pratica bisogna fare attenzione perché non c'è molto tempo da quello che ho potuto vedere alcune pratiche scadono in ottobre altre scadono in novembre quindi il recupero non è illimitato nel tempo a questo punto si pone il problema per quelle piccole realtà che non possono recuperare sull'F24 perché non hanno capienza e che magari gestiscono separatamente rispetto agli altri istituti della stessa congregazione mi spiego meglio noi possiamo avere istituti grandi dove gli importi da esporre in F24 sono abbastanza sensibili e quindi probabilmente i recuperi che andiamo a fare mano a mano di cassa integrazione ci consentono c'è capienza per poterli prendere per la stessa congregazione un istituto piccolino che gestisce separatamente il suo F24 non riuscirà mai a recuperarlo nelle scadenze che ci dà l'Inps quindi suggerisco di attuare una compensazione tra istituti di modo che abbiamo un doppio vantaggio primo recuperiamo le le casse il FIS anticipato evitando che ci possa scadere secondo creiamo liquidità per quella casetta che non sarebbe riuscita a recuperarla praticamente l'istituto che ha tanti dipendenti invece di dare i soldi all'Inps gli dà la sua consorella che ha diritto e così chiudiamo effettivamente il credito senza portarlo troppo alle lunghe questo era in merito alla richiesta di poter recuperare questi crediti FIS quindi sia ben chiaro ci sono delle scadenze non possiamo aspettare troppo pertanto dove non c'è capienza recuperiamoci su altre posizioni consideriamo anche che tra breve avremo i crediti da 7,30 e quindi il nostro margine di recupero sull'F24 si abbasserà ancora di più pertanto bisogna fare una strategia di recupero laddove abbiamo crediti quali 1.655 e crediti di imposta che possiamo rimandare e recuperare in un altro momento magari questo mese non ce lo mettiamo e ci mettiamo la cassa integrazione bisogna agire un po' d'astuzia e stringere i tempi per i recuperi c'è un'altra richiesta cosa prevede il nuovo accordo sindacale agire per l'integrazione fissa carico datore di lavoro tutti ormai già sapranno che c'è stato un accordo sindacale 5 maggio tra la gire e i sindacati dei lavoratori dove si è stabilita una nuova misura di integrazione da parte del datore di lavoro pertanto le settimane successive alle 9 saranno regolate con un'integrazione da parte del datore di lavoro soltanto del 10% della quota fis che abbiamo riconosciuto in busta paga dipendente non ci sarà più l'integrazione al 100% del netto dello stipendio che percepiva il dipendente sarà bene avvisare anche i dipendenti di questo nel momento in cui consegneremo una busta paga sensibilmente ridotta rispetto a quello che poteva essere quella precedente al momento non avrei altro grazie ho letto la richiesta ringrazio della domanda perché mi permette di fare la precisazione mi si chiede i contributi ministeriali che dicevo alle scuole sono da includere nel fatturato di riferimento per il calco famoso contributo fondo prodotto se sì per competenza per cassa chiaramente non sono da includere perché infatti ripeto nel RICO RS 111 vanno indicati solamente i corrispettivi per cessione di bene e prestazione di servizi il contributo erogato dal ministero dalla regione dei comuni non sono non sono assolutamente prestazione di servizi conseguentemente ai fini della quantificazione del fatturato delle relative poi aliquote di applicazione per ottenere il contributo devono essere esclusi tant'è che infatti nella dichiarazione di redditi nel riquadro RS 111 non va inserito quell'importo perciò su questo profilo siamo tranquilli bene buonasera a tutti siamo arrivati alla fine del webinar ringraziamo tutti per la partecipazione ma anche i relatori che come sempre si sono dimostrati chiari e puntuali e dalla costanza di partecipazione credo che ci dovremo riaggiornare al momento della conversione del decreto rilancio perché molte questioni sono rimaste in sospese per il resto di nuovo grazie e buona serata a tutti solo un'ultima comunicazione mi perdonatemi vi arriverà la comunicazione per il ricevimento dell'attestato e sia le slide che sono state presentate sia la registrazione del webinar sarà disponibile tra due tre giorni sul sito della FIDEI ecco davvero adesso buona serata e arrivederci buona serata a tutti